Ricordiamo che Lela è il numero 4, Michi Tainu, Ionela Numero 5, Rossella De Vivo Lela, numero 6, Verotti, Maria, un applauso Un applauso forte, Veronefice Gabriella, numero 7 Ed era la numero 8, Cantemo Antonella Alla numero 9, Parisi Donata Caccavo Miriam, una musica molto movimentata E battiamo il tempo con le nari, questa è un'ottimissima idea E adesso è il momento della numero 11, Annabella Fresolone E lei è la nostra piccola Teresa, veramente una modella E domani E lei è vittoria, un applauso Ma che coreografia, complimenti Ho fatto lui, al dopo festival e a quelli che il calcio dai E' sempre meglio di niente Vi saluto, vi ringrazio, un bacione a tutti A mezzanotte sai che io ti penserò E un applauso fortissimo, Adriano Solentano Altrimenti noto come Stefano Simondo Un applauso E ringraziamo in modo particolare Quindi, Leone Gizzi, Liliana Esposi Direi che lei sarà colui il quale Grazie anche alle nostre ragazze che aiuteranno Premierà le ragazze E t'idea sei troppo buona proprio Abbastanza tese, qualcuno dice Che ci faccio, qua mi sei scocciata Però no, no, no Siete emozionate, siete tese Allora vediamo Una delle seconde classificate Con la fascia di Miss Eleganza Odite, odite La numero 11 Annabella Fresolone E facciamo fare una vostra sorella Lei è Miss Eleganza Miss Simpatia Con lei la quale, con la sua simpatia Veramente c'è altra volta E questa sera Facciamo un forte applauso Perché lei è la numero 10 Caccava Miriam Complimenti Questa sera Miss Bellezza Un applauso per la numero 4 Lionel Ammitetelu Applauso E complimenti Numero 3 Miss Cinema Adele Grillo Applauso 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 Veramente Buoni complimenti 18 agosto 2008 Vince Come prima classificata La fascia di Miss Terme Rosa Pepe Il concorso E accede automaticamente Al concorso successivo Miss Terme d'Italia 2008 La numero La numero 9 Parisi Donata Un applauso Miss Terme Rosa Pepe Un applauso Loro sono Miss Eleganza Miss Simpatia Miss Bellezza Miss Cirera E ovviamente Miss Terme Rosa Pepe Liliana Esposito Leone Gizzi E Anna Che sono dietro le quinte Veramente si sono dati Tantissimo da fare Complimenti Grazie Ringrazio Ingrassia Ringrazio a voi Che avete avuto La pazienza Di attendere La giuria D'eccellenza La giuria Ringrazio Di Pubblico Grazie Grazie